Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Dunque ragazzi come avete letto dal titolo Oggi ritorniamo con i siluri a Rana Lo so che doveva scendere ieri il giorno di caricamento Ma ho avuto troppi impegni, non sono riuscito a terminare il video Dunque eccoci qua, mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale Se no siete ancora iscritti Fate vedere questo video ai vostri amici per fargli vedere altri metodi interessanti Per prendere i siluri Dunque direi di superare i 100 like per questo video E dunque direi via con il video F*** 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 preso preso bellino sai cosa non ho preso il guanto oh c'è un gambero di fiume non della louisiana di fiume qua si guarda 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 adesso lo prendo eccolo qua eccolo qua guarda vedi che ti dicevo stanno sotto cannella vedi era qua era qua non riesco a vedere no è andato giù era qua proprio sotto riva capisci quando ti dico di usare il gambero per i siluri per questa maniera e finalmente rendo felici the fish hunters i miei amici che hanno il canale con silurotto siluretto con l'anatar della savage guarda guarda no ha bucato perfettamente minchia guarda l'amo è uscito fuori ferrata migliore di questa non si poteva fare no ma non gli ha dato si è solo girato urca no non era là l'ha mancata l'ha mancata è tornato dentro è tornato dentro di voi non l'ha neanche toccata ok oh puttana troia è enorme è enorme è enorme è enorme non me lo aspettavo qua sotto no si è mollato puttana troia era enorme puttana troia era enorme non è enorme non è Grazie a tutti. 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 Condividete il video e iscrivetevi al canale per altri video del genere. Mi raccomando non fate quelli del braccino corto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.